Noi abbiamo partecipato al progetto Flora Aromatica come centro di ricerca sperimentale avanzi dell'università stessa e abbiamo seguito sia l'azienda Flora che i coltivatori, sia per la messa delle coltivazioni, tra pianto, fertilizzazione eccetera e anche come analisi dei prodotti finali, quindi della pianta una volta sviluppata l'olio essenziale che si è ottenuto per vedere le migliori caratteristiche che poteva avere e quindi la finalità ultima di questo olio essenziale in prodotti cosmetici, in prodotti per l'alimentazione eccetera. Quindi è stata una soddisfazione vedere questo coinvolgimento di tante aziende e la partecipazione, l'entusiasmo con cui questi coltivatori hanno affrontato il progetto e come si sta sviluppando in questi ultimi tempi visto anche il vantaggio che il territorio ne ha tratto da questo progetto stesso e dai suoi risultati.